Cominciamo adesso a parlare di controllo centralizzato. Rivediamo un attimo il nostro modello matematico, il modello di un robot in una capena seriale ai corpi rigidi e rappresentato in forma matriciale da questa equazione. B per Q2, il termine sarebbe massa per accelerazione, in cui vediamo che la B è funzione della configurazione. Abbiamo già discusso di questo. Poi i termini corioli e centripeti, che sono quadratici nella velocità. Il termine di attrito viscoso. Abbiamo già visto che questa F è in realtà una matrice diagonale perché l'attrito viscoso agisce a livello di ogni link. E ignoriamo l'attrito statico. Consideriamo solamente il modello più semplice. La gravità, anche questa funzione nella configurazione, evidentemente è uguale. Scriviamo U, non scriviamo tau, U è il nostro ingresso. Bene, quindi adesso quello che noi faremo è progettare, e oggi ne vedremo due nelle prossime lezioni altre, delle leggi di controllo che ci permettono di movimentare il robot in maniera desiderata. Quali sono le caratteristiche matematiche di questa equazione? Beh, prima di tutto è multidimensionale. Le variabili Q due punti, Q punto e Q sono vettori n dimensionali, dove n è il numero di gradi di libertà del robot. Le equazioni sono non lineari. Ci sono diverse sorgenti di non linearità. Sono funzioni trigonometriche. Le variabili compaiono moltiplicate tra di loro. E poi ci sono dei termini quadratici nella velocità. Per cui certamente, diciamo, questa è un'equazione non lineare, accoppiata. Accoppiata significa che la dinamica dei giunti dipende in generale dalla dinamica degli altri giunti. E questo, dal punto di vista intuitivo, dal punto di vista fisico, è ovvio. Se io muovo una parte del mio braccio, risente di questo movimento dell'accoppiamento inerziale anche l'altra parte del braccio. Va bene? Per cui, se noi consideriamo il fatto che conosciamo queste equazioni, che, come abbiamo visto, possiamo anche dimensionare i parametri dinamici, ossia le masse, i momenti primi, l'inerzia, li possiamo stimare. Se no prendiamo i dati CAD, se non ce li abbiamo, e questo significa che questa equazione effettivamente è nota. E allora, beh, allora io posso cercare di progettare delle tecniche di controllo avanzate, delle tecniche di controllo specifiche per questa equazione, quindi di fatto specifica per un robot. E questo è forse, diciamo, una delle prime volte che voi abbandonate le equazioni differenziali lineari e vediamo un po' di tecniche di controllo non lineare. Va bene? E come vi ho detto, abbiamo bisogno sia di strumenti matematici più avanzati. In realtà, adesso non voglio spaventarvi perché noi vedremo solamente il teorema di Lyapunov che abbiamo introdotto l'anno scorso in teoria dei sistemi velocemente. È l'unico strumento che vediamo. Però, se si volesse proseguire sullo studio delle tecniche di controllo per sistemi non lineari a prescindere dalla robotica, bisognerebbe studiare degli aspetti matematici, degli argomenti matematici diversi. Quindi noi dobbiamo, diciamo, rivedere brevemente questa cosa e poi adattarla alle nostre equazioni. Per cui adesso rivediamo un attimo il cosiddetto teorema di Lyapunov, la stabilità di Lyapunov. E quello che scopriremo è che questo che nasce come teorema per lo studio della stabilità di sistemi non lineari, noi lo utilizzeremo come strumento per la sintesi di un controllore, ossia per il progetto di un controllore. Il primo che vediamo, che è quello più semplice, su cui farete l'esercitazione domani. Allora, abbiamo un sistema del tipo x punto uguale a f di x, quindi non lineare, e n dimensionale. Che cosa facciamo? Proviamo a costruirci una funzione. Quando dico proviamo vuol dire che qui noi abbiamo dei gradi di libertà, siamo noi a scegliere la funzione. Nel nostro caso saranno sempre quadratiche molto semplici che vi darò io, però in generale per questo teorema questo è già un grado di libertà. Io posso scegliere la funzione che deve avere come caratteristiche che sia sufficientemente dolce, in particolare noi la vogliamo continua con la derivata prima continua e la vogliamo positiva nulla nell'origine. Guardate, io non dico definita positiva come siamo abituati in questo corso, perché questo è uno scalare, questa è una funzione scalare, per cui deve essere maggiore di zero per ogni argomento diverso dal vettore nullo e nulla nell'origine. Se noi riusciamo a dimostrare che la derivata temporale di questa funzione è sempre minore o uguale di zero, allora l'origine è stabile. Se invece è sempre minore di zero, allora l'origine è asintoticamente stabile. Se poi noi dimostriamo che questa funzione è radially unbounded, cioè per l'argomento che va all'infinito va all'infinito e di punto è minore di zero, allora è globalmente asintoticamente stabile. Quest'ultima riga l'ho praticamente ignorata in teoria dei sistemi, perché poi l'abbiamo applicata per un sistema lineare, in robotica invece ha un significato diverso, perché il sistema è non lineare, rappresentato da equazioni non lineari. Per cui quello che io posso dire è che se io dimostro che la mia funzione ha queste caratteristiche, allora la sua stabilità è vera in tutto lo spazio di lavoro, in tutto il workspace. Va bene? Allora questo è un teorema e questo è nell'enunciato più semplice, esistono innumerevoli versioni del teorema di Lyapunov e diversi matematici hanno dedicato la loro carriera a studiare la stabilità dei sistemi dinamici, per cui questo è veramente solo l'enunciato più semplice. Vediamo un attimo che faccia ha questa funzione, vediamo l'interpretazione grafica. Allora la funzione V la chiamiamo funzione di Lyapunov dopo che l'abbiamo trovata, prima la cerchiamo, quando l'abbiamo trovata è una funzione, anzi di Lyapunov candidata e dopo la dimostrazione diventa di Lyapunov, questa è una sciocchezza. Vediamo un attimo, qual è la sua rappresentazione grafica? È questa, cioè guardate, è una funzione, in questo caso una funzione di due variabili per poter avere la rappresentazione grafica, in cui abbiamo x1 e x2 sul piano e la funzione V di x sulla z. È una funzione che nulla nell'origine ed è sempre positiva. Per esempio questa forma quadratica qui soddisfa le condizioni che stiamo cercando. Dal punto di vista visivo, dal punto di vista grafico, se noi avessimo una pallina che rappresenta lo stato, quello che noi stiamo cercando di dimostrare è che questo scivola verso l'origine. Va bene, questa è un'interpretazione grafica. Ora, nel nostro caso, chi è questa V? Beh, nel nostro caso, noi in robotica prenderemo la funzione come tipicamente la variabile che ci interessa al quadrato, per cui questa è la norma al quadrato x esposto x, l'abbiamo vista tante volte, no? Quindi l'abbiamo incontrata sia in teoria dei sistemi che già in robotica. Ovviamente la posso prendere pesata, quella che, diciamo, è la norma di Malavobis che abbiamo incontrato, per esempio, nel filtro di Kalman. È semplicemente una norma pesata. Se io voglio dare un peso diverso alle variabili, cosa ragionevole, perché se questo, per esempio, sono i giunti di un robot, intuisco da solo che l'ultimo braccio, che magari è un piccolo disco che ruota e che pesa 100 grammi, e la base del robot, che è un braccio, è un link che ne pesa magari 15 di chilogrammi e deve portare tutto il robot a spasso, posso voler pesare in maniera diversa l'errore. Posso anche, eventualmente, metterci uno scalare davanti, non cambia niente, serve solamente per avere i conticini più semplici quando vado a fare i conti. Ok. Quando vado a calcolare la derivata di questa funzione, la derivata temporale, che cos'è? È la derivata parziale della v rispetto alla x moltiplicato x punto. Quindi, la derivata parziale di x rasposto x è 2x rasposto, in maniera del tutto analoga a quei polinomi scalari, per x punto. Per cui, io mi trovo che v punto è uguale a 2x rasposto per f. Ma a questo punto, nella f, cosa compare? L'ingresso. Per cui, che cosa succede? Che io adesso ho un'equazione in cui devo imporre il segno, sulla quale devo imporre che sia minore di 0, e ho il mio grado di libertà all'interno dell'equazione, la u. Per cui, questo mi consente di progettare la u. Quindi, lo strumento che nasce come teorema di stabilità viene utilizzato, può essere utilizzato come un strumento per progettare il controllore. A questo punto, che cosa scegliamo come variabile, diciamo, x del nostro sistema dinamico? Poiché il teorema mi dice la stabilità dell'origine, io come variabile scelgo q tilde uguale q desiderato meno q, cioè l'errore, perché voglio portare l'errore a 0. Quindi poi devo riscrivere un attimo l'equazione. Oppure posso prendere q tilde punto, cioè l'errore di velocità. Oppure posso prendere la somma dei due, per esempio. E quindi questo è quello che noi adesso vogliamo fare. Poi, quando vado a derivare q tilde punto, che è q punto desiderato meno q punto, esce fuori q due punti. Se esce fuori q due punti, vuol dire che esce l'ingresso la u, esattamente come abbiamo visto qui. Quindi, questo è quello che ci serve di Liakunov. Non scomodiamo concetti matematici particolarmente complicati, semplicemente la derivata. Questo è quello che... Ci sono le forme quadratiche, che ormai, diciamo, vi hanno accompagnato in molti dei nostri concetti, sia in teoria di sistemi che in robotica. E questo è lo strumento che andiamo ad utilizzare tra poco. Ok. Allora, questo è quello che vogliamo fare. Quindi, questo qui partiamo con le nostre equazioni accoppiate e non lineari. La prima legge di controllo... Oggi vediamo due leggi di controllo. Va bene? E poi domani fate l'esercizio su questa. La prima legge di controllo rientra sotto il nome di PD più compensazione della gravità. Vediamo un attimo questa legge di controllo come entra in gioco. Allora, voi vedete la lavagna condivisa, giusto? Sì. Sì. Ok. 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 Vediamo un attimo. Prima di tutto quello che noi andiamo a fare è inizialmente un problema di regolazione. Cioè, adesso stiamo andando a individuare, a progettare una legge di controllo che sarà dimostrata per Q desiderato costante e Q punto desiderato uguale a zero. Bene. Vi ho già detto tante volte che dal punto di vista pratico questo è un tipo di riferimento che non si dà ai sistemi meccanici perché sarebbe come dare un riferimento a gradino e non fa molto piacere alle trasmissioni e ai motori ricevere delle discontinuità. Per cui noi ora lo dimostriamo per la regulation però poi la implementiamo con un profilo di velocità più dolce. Bene. E facciamo la progettazione che a questo punto possiamo anche definire basata sull'Iapunov vuol dire che sfrutteremo il teorema che abbiamo appena visto. Qual è la funzione di Iapunov candidata? Beh la funzione di Iapunov candidata può sembrare in apparenza un po' diciamo complicata però poi si capisce perché chi ha avuto l'idea di proporre questa l'ho fatto. Allora che cosa abbiamo? Abbiamo un termine che è una norma è cotilde quadro in cotilde quadro è una norma dell'errore di posizione ai giunti al quadrato pesata tramite una matrice kp definita positiva che decido io in effetti qua non l'ho scritto però kp è definita positiva questa lo devo aggiungere agli appunti bene quindi questo è del progettista e sommato un altro termine che non è proporzionato all'errore di velocità ma è proporzionato solamente alla velocità al quadrato questo termine è pesato tramite la matrice di inerzia che è sempre definita positiva per le proprietà fisiche dei sistemi meccanici il fatto di aver usato questa matrice di inerzia qui è un trucchetto del progettista cioè di chi ha proposto per la prima volta questa legge di controllo che ci consentirà di avere i conti facilitati nel seguito va bene quindi questa è la mia funzione di Apunov è positiva è definita è positiva perché non scalare si per ogni q punto e q tilde punto diverso da zero quindi quello che io cercherò ora di dimostrare è che posso scegliere perché ancora non l'ho scelto una legge di controllo opportuna tale che vada a zero sia q tilde quindi l'errore che q punto vuol dire che si ferma perché la velocità va a zero ok facciamo la derivata di questo di questa funzione di Apunov perché io adesso devo calcolare la derivata e poi imporrò che sia minore di zero la derivata prima di tutto io qui ho un quadrato il primo termine è il quadrato di b di q moltiplicato questo è come se fosse q punto al quadrato ok quindi io posso fare la derivata del prodotto e quindi significa che prima io derivo rispetto a q punto e ho il 2 che si semplifica q punto trasposto b per q due punti ok e poi lascio ineltorato q punto e derivo b e ottengo b punto guardate che b punto significa è una matrice n per n significa la derivata temporale di tutte le componenti della matrice ok poi la derivata dell'altro termine se volete ce la calcoliamo un attimo giusto per farvi vedere quanto quanto vale se io devo fare la derivata rispetto al tempo di un mezzo q tilde trasposto kp q tilde quindi questo è è due volte per un mezzo per q tilde trasposto per kp per q tilde punto va bene quindi questo è uguale vabbè due si semplificano q tilde trasposto è q tilde trasposto kp e ora io devo fare la derivata di q desiderato meno q ma la derivata di q desiderato è zero perché è costante per costruzione quindi qua viene meno q punto va bene quindi esattamente quello che c'è scritto qui semplicemente che poiché diciamo fatti conti al contrario è il trasposto però non è un problema perché qp è simmetrica per costruzione e siccome è uno scalare il trasposto di uno scalare è uguale a se stesso ok quindi questo lo so fare è il primo passaggio a questo punto che cosa succede che devo notare beh io devo notare che qui ho il termine b per q2 punti ma chi è b per q2 punti beh io so perché l'abbiamo riportato prima che b per q2 punti è u meno c per q punto meno g meno f q punto va bene semplicemente ho sostituito la dinamica quindi adesso capisco non so se sono io però non vedo la lavagna aggiornata si ha ragione nell'ultimo passaggio anzi qualche passaggio in più questo sempre ci fa questo regalino jumpboard perché poi ogni volta che lo fa la rete funziona si funziona perfettamente per cui è solamente una questione di sincronizzazione del software di q2 allora vediamo ancora no vabbè allora devo fare da qua a volte devo addirittura entrare e riuscire dall'applicazione jumpboard un attimo solo allora adesso si è aggiornata e poi si è aggiornata ha anche cancellato la derivata rispetto al vi faccio vedere qual è la derivata vabbè è una scemenza però ve la riscrivo un attimo avevamo avevamo la derivata la derivata rispetto al tempo di un mezzo q tilde trasposto kp q tilde che abbiamo detto che è uguale a due volte per un mezzo q tilde trasposto kp e poi a questo punto sarebbe la derivata di q tilde che è q punto desiderato che è uguale a zero perché per ipotesi e poi c'è meno q punto va bene per cui abbiamo questo e questo termine qua ok adesso ricancello ricancello questa derivata a questo punto ho già col testo giallo quello che vi ho detto a voce che non si era sincronizzato e cioè che io questo bq due punti ora capisco perché è stato messo nella funzione di leafone in maniera tale che io adesso faccio comparire la dinamica del modello e questo mi fa comparire la u che è l'ingresso del mio progetto per cui al posto di bq due punti io scrivo u meno c q punto meno g meno f q punto sto semplicemente levando le dipendenze da q per avere una notazione più compatta e dopo di che beh io mi rendo conto che posso mettere in evidenza posso mettere in evidenza a sinistra a destra q punto e questo qua è un termine che ha all'interno della parentesi tonda b punto meno 2c questo b punto meno 2c è semplicemente lo vado a prendere le proprietà del modello matematico non l'abbiamo dimostrato però vi ho detto vi ricordate questa proprietà che adesso diciamo sembra chissà cosa serve serve perché diciamo si annulla quindi questo termine è uguale a 0 ha anche diciamo una motivazione energetica però la tralasciamo poi ho messo in evidenza e mi tengo il termine meno q punto da sposto a fq punto questo termine qui perché lo separo dagli altri beh lo separo dagli altri perché questo termine qui a me fa piacere perché questo se guardate è un termine quadratico con il nucleo che è definito positivo perché è un attrito col meno davanti quindi questo termine qui a me piace perché è sempre minore di 0 io sto cercando di rendere v punto minore di 0 e non ce lo dimentichiamo per cui questo è un termine che già è nella forma che mi va bene poi ho tante cose dal segno indeterminato perché beh perché questo qui sarebbe q punto quadro è una forma quadratica però diciamo q punto trasposto per g che segno ha q punto trasposto per kp q tilde non lo so sono indeterminati però mi ricordo che io ho ancora la possibilità di usare il mio grado di libertà e questa u ancora non ho usato anzi devo progettare e la progetto per fare cosa beh io la progetto adesso per se posso rendere questo termine minore di 0 allora vediamo se questa cosa è possibile o no devo recalcolare la pagina quindi un secondo solo o no Grazie. Grazie. E ovviamente ha smesso di sincronizzare. Allora, continuo da qua, adesso che si è bloccato. Siamo arrivati a questo punto, per cui ora noi dobbiamo scegliere la U, ok? Come la scegliamo? Beh, guardiamo un attimo. Io posso pensare, dal punto di vista puramente algebrico, poi mi chiedo qual è il significato fisico-ingegneristico, posso pensare di annullare questo termine, la gravità, nel senso che io la compenso. E poi, beh, io poi posso pensare anche di annullare questo termine, Kpq tilde. E poi posso pensare di aggiungere un termine che sia proporzionale a Q punto. Che cosa ottengo se faccio queste cose? Ottengo che la mia legge di controllo assume una forma di questo tipo qua. quindi U è uguale a G più Kpq tilde, meno un certo Kd che scelgo io per Q punto. Se io a questo punto ho scelto questa legge di controllo, vado a sostituirla all'interno delle equazioni precedenti, io quello che ottengo è questo. Guardate, ho un termine che è quadratico in Q punto, il nucleo è la somma di due matrici definite positive, quindi è ancora definita positiva, o il meno davanti. Quindi questa funzione v punto è minore di zero, però devo fare attenzione a una cosa, che è abbastanza delicata. La mia variabile di stato è Q tilde e Q punto. Qui compare solo Q punto. Ok? Ok, questo adesso si è ripreso. Per cui, che cosa significa? E questo, diciamo, lo devo fare attenzione a questa cosa. che io qui, la mia V punto non ci sta a Q tilde. Va bene? No, ragazzi, oggi non ne vuole sapere di sincronizzarsi, per cui rimaniamo sul PDF. Qui non compare la Q tilde. Allora, io che cosa ho? Ho che questa grandezza qua è minore di zero, tranne quando, quando ho Q punto uguale a zero. In quel caso è nulla per ogni Q tilde. Che cosa significa? Che è minore uguale di zero rispetto allo stato. Va bene? Quindi non ci facciamo trarre in inganno dal fatto che qui ci sia la forma quadratica, perché non c'è Q tilde. Allora, io devo ancora capire dove va a convergere. Quindi come lo faccio? Beh, lo faccio semplicemente andando a scrivere la mia, il mio controllo nelle equazioni dinamiche. Quindi al secondo membro qua io ho scritto il mio controllore, al primo membro ci sta l'equazione che era dinamica e sue. So che il mio sistema si ferma, perché me lo dice l'Iapunov, quindi io so che a un certo punto Q punto uguale a zero e Q due punti uguale a zero. Per cui io cancello tutti i termini Q punto e Q due punti, perché sono uguali a zero. Ok? G e G si semplificano. Che cosa rimane? Rimane Kp Q tilde uguale a zero. Quindi effettivamente questo conclude la dimostrazione e posso dire che questo controllo porta l'errore a zero. Quindi riguardiamo un attimo il controllore. Il controllore è questo qui con lo schermo, questo qui con il riquadro azzurro. È estremamente semplice. Ho un'azione proporzionale, Kp Q tilde. Ho un'azione derivativa, perché poiché Q punto desiderato uguale a zero, questa è l'azione derivativa, meno Kd Q punto. Dopodiché ho una compensazione di una parte della dinamica. Ho compensato solo la dinamica che mi dà fastidio al regime, cioè quando il robot si è fermato. perché quando il robot si firma i contributi inerziali di correre i centripeti non ci sono più, c'è solamente la gravità. Quindi questa legge di controllo che fra l'altro contiene, se volete, il principio di molte leggi di controllo, e cioè compenso la dinamica e poi ho un'azione proporzionale eventualmente integrale, derivativa. Qua non c'è l'azione integrale. Ok? Lo schema blocchi di questo controllore è questo, e quindi è molto semplice, veramente molto semplice, e in teoria va a zero. Facciamo dei commenti, perché dal punto di vista teorico il controllore è finito, però sicuramente non è così. Allora, come scelgo il KP? Beh, il KP ha un'interpretazione, perché non lineare? Io adesso ho difficoltà nel nel progettare questi guadagni, non ho tecniche tipo le reti correttrici in cui assegni esattamente una banda. Allora, in qualche modo, un po' ragiono sull'equivalenza con lineare, e un po' ragiono con l'interpretazione fisica di questi tre. KP può essere vista come una molla virtuale sull'errore, quindi è l'azione proporzionale, fisicamente si può interpretare come una molla virtuale. KD è una viscosità virtuale, per cui in qualche modo questi giocano il ruolo proporzionale e derivativo. E vi ho fatto vedere l'ultima lezione quali sono un po' gli effetti sulla risposta al gradino di KP e KD. Guardate, purtroppo diciamo la taratura, questa è la prima legge di controllo, è una legge di controllo abbastanza semplice, purtroppo la taratura di questo controllore non è semplice in tutto quanto lo spazio da loro e per tutte le traiettorie, è una legge di controllo abbastanza semplice, abbastanza basilari. Se non ho un sensore che misuri la Q punto, e tipicamente non ce l'ho, io non posso retroazionare il Q punto, allora devo fare riferimento a un'implementazione di tempo discreto del tipo Q punto uguale, beh, Q con K meno K meno 1 diviso passo di campionamento, questo è quello che poi si implementa, per cui alla fine la legge di controllo assume nel tempo discreto questa espressione qua. Va bene? Ora, io non posso pensare di conoscere perfettamente il mio modello matematico, per tanti motivi, ce li siamo già detti, l'avete visto, in teoria di sistema, in modellistica, diciamo, è sempre affetta da qualche errore, di qualche natura. E allora che cosa vado a implementare in realtà? In realtà io implemento una legge di controllo in cui io qui devo assumere di avere il G cappello, dove il cappello è il simbolo che in questo corso noi indichiamo come stima di quel bottore, ok? Quello che posso dire è che se sono bravo il G cappello è simile a G, ma dal punto di vista matematico devo assumere che sia diverso da G, per quanto poco. Allora, ma se io vado a rifare la dimostrazione e G cappello non è più uguale a G, non mi viene più la V punto negativa. E va bene, qualcuno ha dimostrato qualcos'altro, e cioè che se io scelgo il Kp molto alto io posso ancora dire qualcosa sulla stabilità, però questo è quello che è diciamo l'obiettivo di questo corso. Bene, devo sapere che non è perfetto. E se non è perfetto vuol dire che questo controllore si fermerà con un errore che non è zero, è tanto più vicino a zero quanto più sono stato bravo a fare il modello matematico. Altrimenti devo mettere l'azione integrale. Con l'anti-wind-up va bene, insomma ci sono tanti accorgimenti dal punto di vista dei controlli che io devo fare per poi avere un controllore che funzioni bene. L'importante è che questo è il principio di funzionamento. Vogliamo vedere un robot diciamo lightweight. Allora un attimo solo mi confermate solo che voi sentite la mia voce perché sì sì ok perché io ho mutato adesso per non sentire la musichetta del video. Come sempre i video commerciali sono fatti molto bene questo è quello che voi potete osservare quando il controllo ha la compensazione della gravità cioè in questo momento l'obiettivo di controllo è quello di rimanere fermo e lui sta facendo vedere che insomma questo avviene in maniera efficace tramite la compensazione della gravità. Va bene? Quindi c'è chiaramente una conoscenza di modello poi il fatto che usi il mignolo lo capiremo lo capiremo dopo perché fa questa cosa. ok ma allora come implemento questo controllore? Beh è molto semplice lo farete domani è chiaro che c'è qualcuno che deve aver fatto un lavoro prima per farvi fare questa simulazione per queste simulazioni prima di tutto ricordiamoci che per noi la variabile di giunto in MATLAB sarà una matrice in cui l'iesima colonna è il campionamento della Q all'istante I moltiplicato il passo di campionamento quindi io prendo tutte quante le colonne le metto una a fianco all'altra in una grande matrice va bene? questo per noi è il modo in cui rappresenteremo le Q nel nostro programma se qualcuno ci dà un programmino una funzione che calcola la gravità per una certa configurazione allora diciamo calcola quindi le coppie di gravità e allora il pseudocodice che è all'interno diciamo del ciclo di controllo per la implementazione di questo controllo è banalmente questo calcolo gli errori siamo nello spazio aggiunti per cui tutte quante le cose sul ruo rieventamento in questo momento le stiamo ignorando immaginiamo di aver fatto per esempio il controllo cinematico che gestisce il cartesiano l'errore di posizione sempre spazio aggiunti Q tilde due punti virgola I è uguale Q desiderato meno Q Q desiderato in realtà è costante io qui potrei usare una costante invece di usare una matrice DQ tilde a chi è uguale? Beh 0 qua uso una costante di 0 posso anche non metterla lo metto solamente per farvelo vedere esplicitamente meno DQ chi è che mi dà la velocità? Vabbè ho il sensore oppure ho fatto la derivata numerica e il controllo il controllo è banalmente dato da questa riga di comando da calcolare ad ogni passo di campionamento quindi è l'azione proporzionale l'azione derivativa più la compensazione e la gravità se vogliamo vedere questa funzione IACO2 che abbiamo calcolato chi ce la dà? Beh questa ce la dà ad esempio questa è la funzione che voi utilizzerete voi non la dovete proprio aprire questo file .m lo dovrete avere nella vostra cartella e utilizzarlo molto banalmente questo qua è la gravità al giunto 1 è sempre 0 perché il giunto 1 è verticale rispetto al piano di appoggio per cui la gravità proiettata lungo l'asse di rotazione del giunto 1 è 0 quindi G con 1 è sempre uguale a 0 poi e poi sono tutti quanti i seni e cosini anche G con 7 è uguale a 0 perché questi numeri strani? perché noi l'abbiamo fatto in simbolico questo per cui in simbolico utilizzando le lunghezze diciamo del robot dello Yaku 2 poiché il simbolico usa diciamo funzioni reazionali non i numeri decimali e allora vengono questi numeri così però questo non si deve neanche aprire noi ci fidiamo di chi ha fatto questi calcoli e via ok? quindi questo è quello che farete domani e adesso diciamo facciamo un po' di pausa prima di passare all'esercizio al controllore successivo che prenderà sicuramente meno tempo di questo è un po' di pausa di un po' di pausa di un po' di pausa